Ben trovato a tutti chi vi parla il Cavaliere Attilio dell'Isa da Sansa, in provincia di Salerno, della regione Campania. Quindi appartenente all'Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa, con a capo il Gran Maestro Papa Francesco. E io faccio parte e sono di riferimento a Monsignor Antonio De Luca della Diocesi di Tegiano Policastro. E con questo video do la mia piena vicinanza alla Santa Sede di Città del Vaticano, con onore e gloria. Di nuovo a tutti un caloroso saluto e alla prossima.